Benvenuti ragazzi, qui Dido, oggi siamo venuti con Stanley Parable, quindi carica salvataggio Eravamo arrivati qua, quando, guardate intanto lì il grande inception di schermi che c'era lì E... eravamo arrivati a dover seguire la linea gialla, no? Allora ragazzi, io per quanto riguarda questo gioco, allora, ora continuerò un po' a giocarlo Perché è molto figo, è molto divertente, ed è molto particolare e strano E... ma non so se faremo veramente tutti... Oddio ma non c'è il computer, oddio cosa... mi era crashato un secondo Cioè mi era crashato, mi si era chiuso un secondo Ok, lasciamo perdere la linea, finisco di dire quella cosa, che appunto non so se li faremo tutti i finali Perché sono tantissimi, e perché appunto abbiamo da incominciare anche altri let's play Ovvero The Last of Us, che alla fine ho scelto di continuare a giocare con voi E un altro gioco, sempre della Play 3, che non vi spoilero perché non so se ho già caricato il finale Del finale, cosa sto dicendo? Non vi spoilero perché la prima parte di quel gioco non l'ho ancora caricata Quindi non sapete cos'è, quindi non ve lo spoilero Quindi prima finiamo questo e poi giochiamo a... Sia The Last of Us, sia appunto quell'altro gioco misterioso E appunto di questo gioco essendoci milioni di finali, non so se li farò tutti, vediamo un po' Quindi ce l'ho, me lo devo inventare io Io mi invento di scavalcare un Jerry Scotti verso la savana, posso? Va bene, oppure voglio cavalcare Dante Alighieri mentre mangia il ramen Cioè è sempre la stessa cosa No, no, fai sempre casino, è sempre un loop Scatena di pure usato... ah, ce l'ho fatto Te l'ho... te l'ho detto Carlo Conti che sculaccia in karma in consoli Perché tu col trademark? Ancora la linea, cioè Basta che le ignori e non succederà niente E ma... ah ok, lei se ne va su e io continuo di qua, ok Pensavo ci sarebbe stato un bivio dove... Merda No dai, ciò caga, ciò caga, no 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 Cammino in cerchio per un minuto, va bene Lo sto facendo E che significa che da qualche parte del posto in cui stiamo cercando a andare c'è un'altra porta che mi conduce qui Ma sei bravissimo Io sto camminando in cerchio intanto, eh Lo faccio, io lo faccio E l'altra porta che è presa al contrario corrisponde alla porta che mi conduce verso la nostra Basta dire sempre la stessa cosa Senti, io vado a sinistra, affanculo, non posso Cosa? Ma no, ma non è vero niente, non ha senso ciò che ha detto Ma non è vero niente di... Ma no, io voglio andare di qua Cazzo è proprio chiusa Non posso farci niente Cos'è? Cos'è? Il finale della confusione Oh mio Dio, questi sono tutti finali? Oh ma entrambe le porte le venivano tra Oh mio Dio, sono tutti finali? Ah no, è tutto ciò che è successo fino ad arrivare qua Aspetta, no, noi a che punto siamo? Siamo al... Ah, siamo qua Find the confusion ending schedule Quindi tra poco lui rifarà partire tutto E ricominceremo il gioco per la quinta volta Cioè per la quinta volta Ma che figata, è molto... Filosofica anche questa cosa Della predestinazione, della mancanza di libertà Della mancanza di scelta Vedete qua? C'è tutto ciò che è successo finora in questa... Da quando è praticamente incominciata la storia della linea gialla, no? C'è, lui che va dalla stanza Poi finisce nella stanza dei monitor Poi lui rifa partire il gioco Poi trova le due porte, eccetera Ora noi siamo qua Siamo qua Find the confusion ending schedule E in teoria lui ora dovrebbe rifar partire la partita per la quinta volta Ma lui non è d'accordo, mi sta appunto dicendo Ok, oddio, ha fermato il timer Qualunque cosa sia che ha scritto questo... Ok, abbiamo bloccato tutto e cosa fa? Eh, non lo so io Cosa? Cosa? Ah, va così, stiamo qua e aspettiamo Sì, va bene, è una storia Ci sono storie belle e brutte però, eh Sì, va bene, è questa frase incredibile L'attesa del piacere Oddio, dopo un sacco di tempo Stanley muore in questo finale Ha crashato tutto ragazzi, ha crashato tutto Minchia, ma non è che mi è venuto in mente di vedere come andava a finire quel programma Cioè, quel nostro destino programmato Cioè, ha scritto che alla fine di tutti quegli step Stanley muore Sono turbato Non so se si è bloccato tutto il mondo qua Oh, allora Oh Stiamo ricominciando come se nulla fosse Cosa? Ok, sono sempre più confuso Questo è sempre chiuso Sono sempre più confuso Sempre di più Ok, allora Per ora è uguale al solito Ok, cominciamo a seguire quello che dice Cominciamo a seguire quello che dice Poi dopo cambiamo Più che altro è perché incomincio a non ricordarmi Le cose che ho fatto Quelle che E quelle che ancora devo fare Anche perché Aspetta, è vero Perché lui qua mi dice che mi giro E torno sulla mia strada Se io rimango fermo Secondo me se io rimango qua fermo Accade un qualcosa Perché continua a dire Continua a farmi dire Cioè, continua a farmi capire Che non c'è niente da fare qua Che me ne devo andare Cioè, c'è Anche lui stesso lo sta dicendo Non puoi neanche interagire con gli oggetti Cosa fai A fare un cazzo di niente Un cdn proprio Un cazzo di niente E va bene E rimango qua a fare un cdn io Sì Voglio vedere cosa accade Esatto Dai Non so neanche a muovermi ragazzi Perché non faccio niente Lo voglio fargli impazzire Tu hai capito che non c'è una scelta O qualsiasi qui, certo? Se io avessi detto Stanno cercando in tutti i modi Di convincermi a uscire Intanto sto provando a toccare gli oggetti Questa rivoluzione è una vera Questa rivoluzione è una vera Questa rivoluzione è una storia Non mi serve momentaneamente Di menzionarlo Non mi importa Non mi importa Io rimango qua Accadrà qua qualcosa Sicuramente ragazzi Sicuro Eh esatto Questo è un qualche finale Potremmo quando vai a parlare di questo Con il tuo gioco O se Oh Tutto in rosa È il mio preferito xd Cosa sto leggendo Cosa sta dicendo Sto gioco È impazzito completamente Dai dai Era grassa brutta E molto molto stupida Ovviamente Ha avuto il lavoro Sulla con Si sta arrabbiando Si sta veramente arrabbiando Si sta arrabbiando E quindi comincia a prenderla Sul personale E a insultarci Sei morto Esatto Sono svenuto Ok Adesso sta prendendo direttamente Con me il giocatore Proprio In una situazione Come questa La responsabilità È di alercare 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 Mi trovo Di avesse portato via Prima di iniziare Decomporsi Grazie Gentilissimo Gentilissimo E pensi sempre a me La persona a questo computer È morto È bello Che non sta parlando Dei stalli Ma di me È una cosa Abbastanza metafisica Delle molte vulnerabilità fisico-umane È stato iniziare a Di avesse portato E' un'altra cosa È un'altra cosa E' 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 un'altra cosa Continua a rimanere Dirà qualcosa No Finisce qua Finisce qua Ancora 5 secondi 4 3 2 1 Ok Fatto Secondo giocatore Sono lieto di averti con noi Non puoi arrivare a una stagione Stammi Sali fino all'ificio del capo Ok allora scendiamo Qua non c'è niente Qua non c'è niente No Qua non c'è niente E uh Qua c'è un posto strano C'è qua un Potrebbe essere un bottone No È solo una luce Qua abbiamo La roba antincendio tipo Abbiamo qua un garage Cosa 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 Qua è una possibilità di affrontare il suo boss Admissare che ha lasciato il suo posto durante le ore E quindi dov'è che sto andando Dimmelo Dall'attore Questo qua è una città Half-Life Questo qua è una città Half-Life Dove Io ho paura di dove voglio arrivare Del tipo Ad esempio Perché non potrebbe vedere i suoi piedi Quando si guarda sotto E le porte Non si chiudono automaticamente Dopodiché E dove si andava E nel momento Queste ruote Si sono forse di più Eh un po' Incomincia a diventare inquietante Quando fa così E alla fine E alla fine È stata tutto questo tempo Su la punta della sua amiga Ma che non riusciva a tirarla fuori Ma che cosa Siamo arrivati alla conclusione Che sia tutto un sogno Quanto sollevato Si risponde Finalmente avrei trovato un risposto Quindi non ero impazzito Ma erano solo sognando Certo Però è vero Magari è un altro finale Questo Ho pensato a lui Spero che ci sarò pronto Spero che ci sarò pronto Ho dovuto tornare A mio bambino Di lavoro di real life Di toccando le bottone Tanto vale che mi guarda questo Mentre rimango lucido Wow Questa cosa che stiamo facendo È molto più divertente Che la sua vita vera Oddio Oddio Volo Aiuto Aiuto Un gruppo di stelle Nel mezzo dello spazio Wow Stanno accadendo cose Aiuto Ma che figato sto pezzo Ecco vediamo che domanda si è posta Quando si è piaciuto Non si è piaciuto Non si è piaciuto Non si è piaciuto Perché c'è una voce In mia head Dictando Tutto Che devo fare Esatto Questa è magari La domanda più grossa Che devi fare Adesso la voce Stava descrivendo Se stessa Mentre mi ha preso Che inception Incredibile Sto sognando Una voce Che mi descrive Pensare Come descrive I miei pensieri Non è un sogno Come sarebbe potuto essere Però Sto cercando di capire Il punto a cui vuole arrivare Con questo discorso Mi ha detto che non è un sogno Scuramente Come? Il peso del materasso sulla schiena Cosa fa? Dorme sotto il materasso Vorrei continuare a premere pulsanti Let me continuare a pulire i bottoni Please It's all I want I want my apartment And my wife And my job All I want is my life Exactly the way It's always been My life is normal I am normal Everything will be fine I am Okay Madonna che inquietante Sto pezzo Si sembra come un mantra Da ripetersi Per accettare Una realtà Che si odia Oddio L'ansia Però l'ansia Aiuto aiuto Diventa rosso Tutto Che ansia Cosa? Ma Sto ancora camminando Non lo so Cosa? 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 Oddio Siamo noi And then collapsed Dead on the sidewalk And although she would soon turn to go call for an ambulance For just a few brief moments She considered the strange man He was obviously crazy This much she knew Everyone knows what crazy people look like And in that moment She thought to herself how lucky she was to be normal I am saying I am in control of my mind I know what is real And what isn't It was comforting to think this And in a certain way Seeing this man made her feel better But then she remembered the meeting she had scheduled for that day The very important people Whose impressions of her would affect her career And by extension The rest of her life She had no time for this So it was only a moment That she stood there Staring down at the body And then she turned and ran Wow Wow Che finale devastante Madonna Che finale assurdo ragazzi Minchia Ci sono rimasto Wow